La vulnologia è una specializzazione della medicina che si occupa di trattare le ulcere cutanee croniche, ovvero le lesioni cutanee che non riescono ad andare incontro a guarigione spontanea in tempi brevi. Cosa è un'ulcera cutanea? È la perdita di tessuto cutaneo che per diversi ragioni non procede verso la normale fase di guarigione in un tempo medio di 4 settimane. In condizioni di normalità la cute, in presenza di lesioni, guarisce spontaneamente. Le lesioni più note sono le ulcere cutanee da decubito, quelle dovute da insufficienza venosa arteriosa, oppure diabetiche, postchirurgiche o posttraumatiche. La definizione della causa di un'ulcera è fondamentale al fine di individuare la cura più adeguata. Nel caso in cui la causa sia controllabile, ma non del tutto eliminabile, si parla di ulcera cronica. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Si fa richiesta di una visita specialistica presso un bulnologo, nel caso di un paziente affetto da lesioni cutanee, che non passano in tempi definiti normali. Per arrivare alla cura definitiva di un'ulcera, si pone come obiettivo l'eliminazione degli ostacoli che impediscono le successive fasi di guarigione. Soprattutto se si soffre di problemi di salute come il diabete, che predispone alla formazione di ulcere, è bene consultare il proprio medico e valutare visite periodiche presso uno specialista in vulnologia. Stai cercando il vulnologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it, oppure su www.socialdoctor.it, oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di uma innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di uma innovation. Se sei un dottore specializzato o puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!